Noi siamo fortunati, abbiamo lavoro, stiamo crescendo da sempre, abbiamo le nostre difficoltà a trovare giovani da assumere, a trovare cervelli di cui abbiamo bisogno. Noi facciamo macchinari per le industrie elettroniche dei semiconduttori, macchinari che fanno cosa? Che collaudano componenti, dispositivi elettronici che vengono prodotti. L'elettronica si è spostata dall'Italia, l'Italia era uno dei maggiori, come secondo paese industriale d'Europa, era fino a 15 anni fa uno dei principali attori nel produrre elettronica. La situazione è stata tale che si è tutto trasferito nel farista. La Spea è una eredità dell'asse elettronico Torino-Ivrea, quindi la Silicon Valley italiana che negli anni 70 è nata e si è ottimamente sviluppata fino poi ad andare a scemare negli anni 90. Avendo imparato il mestiere ho iniziato nel 1976 l'azienda Spea a partire da un dipendente e oggi siamo mano a mano, mano a mano cresciuti perché questo saper fare queste macchine sta in pochi cervelli al mondo, tra cui il nostro. Noi abbiamo scelto di andare a vendere in tutto il mondo i nostri prodotti e di produrli qua. Noi facciamo macchine complicatissime e che sono difficili da copiare perché diventano vecchie subito. Noi facciamo macchine che collaudano le invenzioni nuove, i componenti inventati nuovi, ma quando sono inventati sono già vecchi e ci sono quelli nuovi, quindi noi dobbiamo sempre correre dietro, costretti ad essere aggiornati. Se noi facciamo il 20% di spese di ricerca tutti gli anni, purtroppo le dobbiamo fare in solitudine perché il governo insomma non guarda tanto le aziende di eccellenza. L'altra tecnologia si fa con i giovani, quindi noi siamo costretti ad assumere giovani che non sanno lavorare, hanno solo le basi della scuola o del polido all'università e con tanta fatica gli dobbiamo insegnare un mestiere difficile, però c'è da dire che si riesce perché i giovani sono in gamba, rappresentano il nostro futuro e quindi noi continuiamo in perterriti a cercare, ricercare cervelli, ricercare talenti, ricercare giovani che non ne troviamo a sufficienza. Grazie a tutti!